Il pubblico è stato incredibilmente caloroso ed era percepibile fin dal primo momento l'emozione e l'attenzione, la curiosità. La pubblica nas ci cercava proprio con un po' 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 che ci siamo riusciti da Bino. In un modo, le emozioni di questo pubblico, ci siamo ormai rivedenti. Ribadisco quello che ha percepito Angela. Una serata molto bella, molto emozionante e anche molto serena. C'era molta serenità e secondo me noi abbiamo avuto la stessa energia e la voglia di divertirci pur facendo delle opere anche abbastanza drammatiche. C'è quello che ha detto la collega Angella è stato molto migrante e il tuo migrante abbiamo avuto una serie di energia che è stato molto più grande e anche che abbiamo avuto una serie di dramattiche, abbiamo avuto una serie di radosti che abbiamo avuto proprio di voi, del pubblico. Noi non siamo abituati a vedere dei soprani, delle cantanti diciamo che sul palco recitano anche. Perché voi ci avete dato una sorta di espressività a cui noi montenegrini non siamo abituati assolutamente. Cosa significa adesso, in quest'epoca, fare lirica? È importantissimo perché il contatto diretto con il pubblico nel momento in cui si vive nello stesso spazio è diventato molto raro. E quindi è molto importante continuare a portare questi messaggi anche molto specifici su un'analisi della società che sono stati scritti due, tre secoli fa, un secolo fa e che sono ancora molto attuali. Quindi, ono che è importante è da dare un'epoca e da, su un'epoca, mi preprizzavamo ciò che si è accaduto durante alcuni stolti, durante alcuni stolti, che è comunque qualcosa che è molto attuale. La lirica o l'opera è una grande ricchezza perché ha tanti argomenti e tante emozioni. Noi veicoliamo attraverso il canto tutta una serie di piccole, grandi emozioni. Lirica e l'opera, inizia, sono molto importanti perché sono un strumento per dare un'epoca per la società. Per noi, anche se raccontiamo storie anche molto, se vogliamo, molto antiche, è fatto di... Sì, di espressioni, di contatto. Quindi, io vedo che le persone, anche quelle che non sanno niente di lirica, si coinvolgono. L'opera è in realtà teatro potenziato perché è come il teatro però che ha la potenza della musica, che descrive e amplifica moltissimo tutte le emozioni. L'opera, possiamo dire, come definizia, è un pozzorio, perché tra le liriche, tra le piovani, tra le musiche, noi, inizia, glumiamo qualcosa che prugge le emozioni. Grazie.